E' sempre più difficile scegliere questi talenti. Momento un po' particolare, un po' particolare. E' chiaro che si deve scegliere basandosi sulla propria squadra. Sinceramente la scelta del Team Blue era palese, sono d'accordo con Ale, perché comunque peccava un po' in tante cose, quindi non era un talento da portare in finale. Grazie.